E' un primo esperimento che ci auguriamo possa proseguire per il futuro, un concerto dove suoneranno congiuntamente la civica orchestra di fiati del comune di Milano e la fanfara della legione Carabinieri Lombardia. Dalla musica originale per banda alla musica sinfonica trascritta per banda a brani jazz e comunque diciamo anche musica leggera in un certo senso. Esco sempre a visitare di sera Milano perché è una città bella e per caso ho visto l'orchestra dei Carabinieri che ci provoca un'emozione patriotica diciamo anche se non sono italiano. La particolarità dell'evento, il fatto che sia una cosa così innovativa se vogliamo anche per la città. C'è più attenzione nei confronti del turismo, è una città più aperta, più europea, più evoluta. Abbiamo saputo che c'era questa orchestra dei Carabinieri e è una cosa che ci tocca e allora siamo venuti. La location soprattutto è molto bella perché proprio nella rocchetta del castello è una cosa favolosa. L'ambiente è l'ambiente bello di Milano che poi venga valorizzato anche durante Expo e viva. È cambiata in meglio, la riconosco più come città europea, assolutamente. Mi sono detta finalmente la mia città è una città europea. Grazie a tutti.